Allora io voglio partire un po' dai festeggiamenti dell'Inter di ieri sera Ma non interessa a nessuno Damiano, basta parlare No vabbè però abbiamo l'opinione loro, insomma si è scatenata tanta polemica Mario, Raja, Vivio sui festeggiamenti dell'Inter, soprattutto per uno striscione che ha postato, che ha fatto vedere insomma Dumfries, c'è da dire che oggi anche a chi ha sto scusa Denzel Dumfries, se lo vogliamo far vedere magari Mario non l'ha visto, non so se Raja l'ha visto che è questo qua Questo è lo striscione, essenzialmente Teher Hernandez al guinzalio Questo ride Mario, Mario ride Bellissimo, bellissimo ragazzi Ma forse sono questi gli sfottò del calcio Bravo Mario Su questo sono d'accordo Ma Mario ce l'ha detta, Raja, mangino o poi sentiamo Vivio? Ma io... Vabbè ragazzi facciamo sempre storie di razzismo, anch'io questo comunque è uno sfotto accettabile, dai Poi ovviamente uno sarà... Raja, Mario anzi Al contrario, secondo te si sarebbe creata una polemica sul razzismo? Si sarebbe creata una polemica sul razzismo perché l'Italia è un paese di ignoranti, per quello, ma non perché sarebbe stato razzismo sicuramente Ok, però la domanda che vi faccio è mettetevi voi al posto di Teo Hernandez, avreste rosicato? Io avrei rosicato, però è a parte del calcio, se vinceva lui, se avesse vinto lui probabilmente l'avrebbe fatto lui Ma perché mi sa che lui aveva fatto qualcosa Però io avrei... No, non credo Io credo comunque festeggiarli devi festeggiarli e rispettare comunque sempre un pochino... Sì, ma lo sfottò... Eh, Raja, tu vinci il campionato con la Roma contro la Lazio Con i giocatori della Lazio, litighi in campo, bla 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 Lo sfottò io lo fai, dai Però è come lui dichiara adesso, ah sì, ma hanno dato una bandiera e non sapeva cosa c'era su, capito? No, 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 quello no, quello chiaramente Cioè, inudere... No, come... Ha detto così, Dunfriis? Ha detto così? No, non credo No, 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 non credo Damia, ti ricordi? Bastos è arrivato alla Roma e gli hanno tirato una sciarpa? Primo giorno... Ah, con scritto... Mortacci sua Mortacci sua, mi ricordo Vabbè, ma secondo me... Secondo me non manco... Secondo me non manco...